Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR sul mio canale ASMR Sara, bentornati, 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 allora oggi video un po' diverso dal solito, facciamo, per l'inquadratura più che altro perché questo sarà un study vlog e non so bene come strutturare questo video perché non ho mai fatto study vlog ASMR, almeno non credo, se non roleplay, però stavolta non farò un roleplay, ma sarà un video super interessante più o meno perché vi farò vedere un po' di progetti scolastici che sto preparando per l'esame, in realtà un po' uno di 3D, andremo a continuare un pochino 3D e poi pensavo di leggere un pochino un libro, leggere e sottolineare, anche se in questo momento non ho come la matita, devo prenderla, quindi è mezzanotte, sono mezzanotte e 3 minuti e andremo a previsionare un pochino il progetto, però non lo andremo a completare perché ci avrebbero giorni, cioè dovrei stare tipo quei 3 giorni consecutivi e 3 notti consecutivi e poi appunto leggerò questo libro e almeno altre pagine perché questo libro lo devo portare all'esame e ve lo faccio anche vedere, mi prenoto per l'appello di febbraio, è un libro così gigante, user experience design, ma è scritto anche abbastanza affitto e io ovviamente nelle vacanze di Natale non l'avevo nemmeno anche comprato, capacità di riduzione all'ultimo minuto, modalità on e quindi devo darmi una spicciata se voglio fare questo esame e lo so che dovrei stare a dormire perché domani devo svegliarmi per presto, per ricominciare nell'accademia presto, però ho sfruttato questi ultimi, queste veramente ultimissime energie che mi rimangono per uno study vlog notturno, quindi ho andato ad organizzarmi un pochino lo studio di questo libro e vi faccio vedere il progetto di 3D e magari andiamo un pochino a fare qualcosa su quel progetto, allora prendo una aia, prendo una matita e spero che questo video vi piaccia, spero che magari anche voi si state studiando, facendo qualcosa, potete farlo con me, ci mettiamo insieme a studiare, io sono in pigiama, sono in pigiamata fino alla fine, però ho pensato che magari per un video a casereggio e per i diaro doveva andare così, ho preso una matita proprio spuntata alla massima potenza e andiamo ad aprire questo libro, ok ok ok, dividiamoci i capito e lì per ragionare, buongiorno, allora, prefazione, introduzione e ringraziamenti non mi interessa e andiamo al capitolo 1, ossia il lato umano del design e del marketing ed è da pagina 3 fino a pagina 12 e penso che riesco a farle stasera, almeno leggere e sottolineare, poi il capitolo 2, un buon design e un buon business dal 15 al 30, ok questo sarà un pochino brutto, e poi ci sono altri pari capitoli di per capitolare fino alla parte 2, mi do come obiettivo settimanale di arrivare alla parte 2, è ok, mamma mia poi è veramente, inizia a diventare veramente super ricco di roba, la parte 3 è alla pagina 279, veramente spero tantissimo di riuscire a fare questo esame, e mi do tempo in realtà anche 2 settimane, allora calcolate che oggi per me è il 10 gennaio, per arrivare alla parte 3, poi io ci arriverai anche magari il 24 gennaio, oppure il 22, mettiamo il turbo, facciamo di 24 gennaio, parte 3, me lo lascio per il 24 gennaio, questo vuol dire che al 24 gennaio devo arrivare che ho finito il libro fino a pagina 279 e vediamo se veramente riuscirò a fare questa cosa, io inizio leggendo e sottolineando il primo capitolo e poi ovviamente i riassunti li farò in un secondo momento se ci sarà bisogno di fare qualche riassunto perché sennò penso di farmi direttamente delle mappette concettuali vicino al libro, perché io non credo proprio che ci sarà tempo di fare i riassunti, quindi un approccio buono per me è mappe concettuali vicino alla pagina, vicino allo scritto della pagina, cosa che non farò stasera perché è anche abbastanza tardi, quindi mi inizierò solamente subito a leggere. Ok. 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 Praticamente fino alla pagina 6 avevo già letto, quindi inizierò a leggere dalla pagina 6, forza mentre studiamo. Ok. Allora, bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro se non volete rivedere la storia dell'enza e il fatto del tesoro e tenetelo a mente per tutto il resto del libro e soprattutto quando sarete tentate di giudicare l'attività di ricerca con gli utenti come qualcosa di non indispensabile o superfluo perché che vogliate realizzare la macchina del futuro o qualsiasi altro tipo di progetto per evitare un grande fallimento come quello dell'Alzal serve un approccio diverso in grado di coinvolgere le persone a cui si rivolge anche la vita al centro durante tutto il resto di presentazione e appunto si chiama Human Centered design il processo di design dell'Alzal era di fatto partito bene con il coinvolgimento dei consumatori a cui era stato chiesto il loro parere, questa scelta però non fu seguita dalla considerazione e integrazione dei risultati della ricerca nelle decisioni sul prodotto. la progettazione iniziale era corretto e possiamo quindi considerarlo un tentativo di progettazione centrata sulle persone progettazione centrata sulle persone secondo la definizione data dallo standard ISO la progettazione centrata sulle persone mira a creare sistemi utili e usabili focalizzandosi sui utenti i loro bisogni e requisiti applicando i principi di ergonomia e di usabilità il suo obiettivo è di migliorare efficienza ed efficacia aumentare il benessere delle persone la soddisfazione dell'utente l'accessibilità e la sostenibilità così come anche quello di contrastare i possibili effetti negativi su saluto mano, sicurezza e performance ok? lo standard ISO ha individuato quattro fasi di lavoro in cui si articola questa progettazione comprendere il contesto d'uso semplificare i requisiti degli utenti creare soluzioni progettuali e rendere i requisiti raccolti creare soluzioni ok? rendere i raccolti valutare e migliorare le soluzioni ok? si tratta di un processo iterativo ok? cioè che si ripete più volte perché a ogni valutazione finale prima di passare alla fase di implementazione il ciclo di attività viene ripetuto per migliorare il progetto e avvicinarsi sempre di più a una soluzione ottimale in grado di rispondere ai bisogni degli utenti nella letteratura più recente le prime due fasi vengono considerate insieme come una fase di scoperta in grado di risposta che ha dato un ruolo servizio dell'inversione del progettista nel contesto e nei problemi delle persone con cui sta progettando una volta raccolte abbastanza informazioni per risolvere il problema e presso tutto ciò che serve per iniziare a generare delle soluzioni si è per la fase di ideazione ok? si è per la fase di ideazione che è la fase 2 in cui si lascia spazio la creatività per interpretare i dati raccolti ok? la terza e ultima fase è quella della prototipazione in cui le idee basate sul feedback creato delle persone vengono trasformate in progetti tangibili la creazione di prototipi deve avvenire nel più breve tempo possibile perché siano testate e verificate in modo da raccogliere un feedback se negativi non sono mai vissuti come un fallimento perché è come l'apprendimento di qualcosa per migliorare il progetto e avvicinarlo sempre di più a essere una soluzione che risponderà ai miei requisiti da soddisfare iterazione e aggiustamenti del prototipo avvengono prima di avviare l'implementazione iterazione e aggiustamenti del prototipo ovviamente così hanno un costo certamente minore e consentono di lanciare un prodotto che successivamente necessiterà di minori modifiche questo processo è particolarmente utile per le situazioni in cui non è possibile definire sin dall'inizio tutti i requisiti di progettazione o in cui ci hanno dovuto certezza con questo approccio si può sapere in anticipo che la soluzione proposta è successo per le persone a cui si sta per proporre un prodotto servizio e anche un approccio mentale consiste nel credere che ognuno di noi può davvero fare la differenza si è dato un processo intenzionale si è dato un processo intenzionale che si è dato in generale in quanto possibile il segno in generale sulle persone aggretive si scoprì che consistono anche di non importa quanto quanto tempo ancora occupa in generale che ci siano a disposizione con questo tipo di processo che infonde sicurezza nelle fattibilità di nuove migliori soluzioni è un po' pesantino da leggere questo romanzo la si fa sia in grado di creare che in grado di cambiamento alla base della progettazione centrata sulle persone c'è la costruzione di una profonda empatia che questo è importante con quelle per cui si sta progettando per chiedere di immergersi nelle loro vite comprendendone i bisogni e le motivazioni ma anche conoscendo i genitori i vicini i figli i colleghi sono ancora la comunità in cui vivono altro importante principio è che non c'è limite all'attratività per cui possono generare tantissime idee e costruire moltissime prototomi condividendo sempre ogni singola scelta con le persone per cui si sta progettando e arrivando così spesso a lanciare idee davvero innovative a questo aspetto dello human center design è anche quello che viene caricato più spesso perché poi richiede troppo tempo o troppo budget si applica in moltissimi campi include le scienze sociologiche e tecnologiche e ogni tipo di sfida progettuale sebbene possa essere utilizzato ovunque dal creare prodotti web e spazi fisici dal progettare servizi governativi a migliorare i sistemi bancari il campo dell'IT è quello in cui è maggiormente richiesto perché se consideriamo la perfetta funzionale di interfaccia qualcosa che potenzialmente tutti possono garantire allora la progettazione che può fare la differenza rispetto alla concorrenza lo human tender design alimenta la creazione di prodotti che generano successo più marcato con il pubblico perché sono in grado di generare complicemente un favore nella crescita come prova basta guardare il successo di Apple Nike Airbnb e Netflix infine considerando il suo ruolo più profondo si è distinto dagli altri approcci per la sua abilità nel considerare il ruolo della dignità umana e dell'accessibilità dello sviluppo di soluzioni ed è proprio per questo motivo che l'approccio potrebbe essere realizzato alle soluzioni umane mentre in tutti i settori ok quindi può essere utilizzato in tutti i settori perché appunto ha questa capacità di sviluppare soluzioni immediate e durature progettualmente valide ecco questo è quello che crede anche la stampa dell'università che sostiene della stampa ad assumere per la mia fianza di questo obiettivo di money think una nuova propria chicago che si accude ok vabbè fa un diciamo un un paragone con MoneyZink un'app ha portato a testare le idee direttamente con i ragazzi di Chicago approfondendo sul campo come gli adolescenti prendono decisioni finanziarie scoprire i comportamenti finanziari erano spesso basati su fattori unici come le entrate sporadiche fare i ragazzi di dipendenza finanziaria anche su fattori sociali ha portato alla progettazione ispirarsi sempre meno alle banche e sempre più a Snapchat così è nata l'app che ha cercato di riprendere sia la natura sociale sia la loro costante mobilità gli adolescenti sono coinvolti in sfide che incorporando elementi ispirati a social media come la condivisione i like i feedback tra pari le aiutano a costruire consapevolezza finanziaria abilità e abitudini e il risultato è l'app Manifink lanciata nel 2014 utilizzata da migliaia di studenti perché la descrivono così è Instagram per i soldi Vigo la devo vedere se esiste ancora quest'app e devo scaricarla se esiste ancora questo è stato possibile e grazie al cambio di approccio della gruppa di lavoro sul prodotto che i miei besti si hanno tradotto nel mantra all'interno dell'ufficio non accade nulla più importante infatti tutti i componenti del team sono stati portati a uscire almeno una volta al mese a incontrare gli adolescenti avviare con loro un dialogo frequente ad acquisire le loro opinioni in modo mericoloso azioni che hanno consentito di costruire migliorare l'ammobile tutto questo non sarebbe certamente stato raggiungibile progettando l'applicazione senza il coinvolgimento degli utenti neppure il migliore tipo di designer è disponibile ok allora mi mancherebbero due pagine ma io mi fermerei qui metto un segno per farvi vedere il mio progetto di 3D non penso di concluderlo in questo momento perché è abbastanza tardi è quasi mezza volta e mezza e domani devo svegliarmi alle 5 però appunto vi faccio magari una panoramica del mio progetto e vi lascio anche lo schizzo così vi faccio vedere come dovrà apparire il mio progetto devo essere sincera il 3D non mi piaceva fino a poco tempo fa ora mi sto trovando molto 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 bene soprattutto ovviamente con le cose che riesco a fare quando qualcosa purtroppo non riesco a farla riesco a farla qui ho il mio computer allora ho l'applicazione come ho il programma ok intanto faccio una nuova registrazione schermo se mi ricordo come si fa ok nuova registrazione schermo registra allora vi faccio vedere il mio progetto di esame che è ancora in fase di un po' di sviluppo però vediamo un po' che nuovo cosa riusciamo a fare ovviamente poi vi metterò anche il tutto postato ed eccolo qui allora intanto vi lascio quello schizzo in isometria che in giro io non ho proprio in isometria perché è un po' storto però voglio realizzare il diorama con una gelateria questa è la mia gelateria cioè non esiste uno schizzo del genere ho preso spunto da una mood board ma la sto facendo io non sto copiando niente da nessuno e questo ora vi starò facendo vedere questo è proprio quello che voglio fare ossia allora qui c'è un gelatino qui c'è il caminetto il tetuccio qua ci sono dei tavolini devo ancora mettere gli scappellini qua c'è scritto scheme qua dei gelati giganti poi qui farò le scale meglio ovviamente con un piccolo balconcino che si entra un po' tutta la porta un vasetto di fiori dei cespuglini e questi sono dei lampioni e dietro degli sedi con di tavoli allora mi mancherebbe da implementare i mattoni nella struttura come vedete qua l'ho fatto e anche qua lo sto facendo poi forse l'ho fatto anche dietro ecco dietro quello lo sto facendo ok implementare i mattoni mettere la capsula totale mettere nuove sedie eccetera poi ci voglio aggiungere un albero vediamo un pochino se riesco a farlo in 3d e poi come cosa pretenziosa voglio aggiungere delle personcine che stanno sedute e dei pasticcini su questi davanzali magari tipo dolci su questi davanzali oppure qua aggiungerci anche tipo un cartello take care tipo prendere qui le cose e qua ci aggiungo dei piatti vediamo se ci riesco tutto da vedere e poi questo gelatina me lo voglio modellare meglio insomma c'è ancora lavoro da fare però penso veramente di avere abbastanza tempo perché se lo faccio il secondo appello sarà a febbraio quindi ho un mese a partire da oggi penso per finirlo ci riuscirò fatemi sapere se vi piace eccetera ovviamente perché mi sto impegnando tanto tanto anche se purtroppo sto andando un po' rilento ora magari vi faccio vedere con questa vista ecco qua magari un pochino più così ovviamente devo colorarlo metterci i materiali e tutto quanto fare il render quindi il video ok ragazzi ragazzi fatevi sapere se questo video stati vlog vi è piaciuto stati vlog stati with me in smr vi è piaciuto e non è stato proprio uno stati di per sé quanto profondo perché appunto essendo tardi bisogna andare a dormire però magari mi organizzo meglio per oddio cosa è successo mi organizzo meglio per farvi più video del genere se vi piacciono però comunque questo periodo questo purtroppo è la mia vita quindi sia pigiama e magari qualche spuntino della mezzanotte occhiali computer per cercare di andare avanti con questi progetti nel migliore dei modi almeno si spera e noi ci rivediamo in un prossimo video fatemi sapere se è il video vi è piaciuto e se c'è qualcuno che ne sa di 3D vi faccia sapere la sua opinione e questione nei commenti so che è una cosa molto base è una cosa veramente da creare c'è ancora vergine tra virgolette però intanto io mi sento già posto quella coscienza per aver fatto questa cosa quindi già per me non è ascoltato e niente ci vediamo in un prossimo video buona buona buonanotte ragazzi buonanotte anche per me perché è venuta allora di dormire anche per me buonanotte 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 buonanotte